Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 20 aprile 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Comperare per apparire. L'apparenza in un segno teatrale come il vostro ha sempre la sua importanza, vi piace farvi guardare o meglio ammirare, conservando il vostro ruolo centrale sul palcoscenico dell'esistenza. A spingervi in questa direzione il grande Giove, Signore Olimpico, sempre orientato al massimo, massimo potere, massima credibilità, massima fortuna, doppiamente oggi che a mettere in luce le sue doti provvedano anche i raggi del sole appena entrato in toro. Peccato che il suo compare Orano, gli sussurri maliziosamente all'orecchio vero, ma solo finché dura. Ecco perché sotto sotto, per quanto vincenti, vi sentite fragili, esposti ai capricci del caso, l'avere non vi dà quella sicurezza, reperibile solo nell'essere, tanto più che la bianca signora oggi sorveglia le vostre spese ricordandovi l'arte della parsimonia. Non sarà sfoggiando un vestito nuovo o un gioiello di buona fattura che innalzerete il vostro personaggio o incanterete il pubblico, al di là delle apparenze c'è la sostanza, quella che conta. La coppia ha programmato un viaggio che sarà rinviato o annullato. Rivali in amore che procureranno amarezze, noia e problemi. Messaggio in arrivo, presto qualcuno potrebbe tornare su suoi passi e cercarvi ancora una volta. I single rinunceranno, o saranno impediti, a qualche viaggio, possibile per loro anche ritorni di ex fidanzati o ex coniugi. Se siete separati da non molto tempo, fate ben attenzione agli accordi che prenderete con il vostro ex partner. Siate chiari e decisi e soprattutto diplomatici per non incorrere in un inutile, quanto dannoso, braccio di ferro. Oggi avrete dei presentimenti alcuni dei quali saranno giusti e fondati. Però non date credito a sensazioni negative che vi verranno dal vostro particolare stato d'animo. Antichi problemi che pensavate risolti si potrebbero ripresentare, persone dal passato che improvvisamente ricompaiono nella vostra vita. Ma niente paura, si tratta di cose passeggere. Chiarimenti necessari con la persona che amate, Mercurio vi aiuterà non poco a mettere in evidenza una situazione che si è venuta a creare e di cui non riuscite a venirne fuori, e che tuttavia potrebbe, alla lunga, crearvi qualche problema. Un importante lavoro da terminare. Datti da fare ed evita le distrazioni. Tutto ciò che farate insieme a gruppi o circoli andrà bene. Se state trattando l'acquisto di una casa o di un bene qualsiasi, fate bene e meglio i vostri conti, magari è il caso di pensarci ancora su. Presto potrebbero esserci altre, e ben più valide, opportunità. Oggi Mercurio favorisce la ripresa di contatti, potreste pensare anche di chiamare qualcuno che non vedete da tempo o con cui i rapporti sono cessati bruscamente. Magari è l'occasione giusta per chiarirsi definitivamente. Chi vi vuole bene è a un passo da voi, sentirete forte il suo respiro e la sua presenza. Ma dovete aprirvi come un fiore se volete che l'amore sbocci. Ottimo giorno per capire che dovete limitare le spese, rendetevi conto che solo risparmiando potrete avere quella serenità che a volta vi difetta. Quando non siete in vena la giornata non è mai positiva e quest'oggi, con Giove e Urano e dal pomeriggio anche il sole allo Zenit, pungolati da ambizioni troppo grandi, rischiate di combinare poco. Non proprio nulla, il minimo che ci si potrebbe aspettare da un tipo in gamba come voi, tutto il resto, la parte più interessante e geniale del vostro operato, è rimandato a lunedì quando, più riposati e con le idee più chiare, farete davvero bingo. Luna sparagnina anche riguardo agli svaghi per la serata. Sia una passeggiata, a un gelato, due chiacchiere bevendo un caffè ma poi stop, è ora di rimettere il borsellino in tasca. Amore ed Eros. Sospiri dietro a una persona conosciuta in vacanza o in filiale seguendo pratiche o riunioni lontano da casa. Un vero peccato, perché di personcine interessanti ne avete viste e sentite tante. Se non avete legami quasi quasi vi verrebbe voglia di chiedere il trasferimento. In coppia serata tiepida, anche il lettone non ha nulla di magliardo da raccontare, dormiteci su, domani è un altro giorno. Oggi sarete un'esplosione di seduzione e di Eros, di attrazione irresistibile e di possibilità di catturare cuori solitari impenitenti. Bene anche per chi è in coppia, convenere che rispolvera il sentimento. Lavoro e denaro. Impegnatissimi sul lavoro, determinati come sempre a dare il meglio di voi stessi per fare la vostra bella figura. Ci riuscite anche oggi, guadagnandovi simpatia e stima, ma se pensate anche all'introito concreto un po' più cospicuo. Qui la delusione si fa a marognola. Rispetto all'impegno che ci mettete all'innegabile competenza riconosciuta da tutti. Guadagnate davvero una miseria. E allora fatevi avanti, andate dal capo e sollecitategli l'avanzamento promesso da tempo ma. Le parole non bastano più, qui ci vogliono i fatti. Avete mai pensato di mettere nel lavoro, negli affari, nello studio la stessa energia, lo stesso spirito di quando vi impegnate nel vostro sport o hobby preferito? Provateci, magari è la chiave giusta. Benessere. La stanchezza vi rende nervosi, peggio ancora se al volante vi ritrovate a guidare contro sole, sembra una sciocchezza ma basta a stravolgervi facendovi passare l'appetito. Ecco perché invece di spassarvela come di regola si fa nei sabato di primavera, potete andarvene a casa presto, mangiucchiare qualcosa e andarvene a dormire. Strano davvero per leoni ruggenti, ma a vedervi stasera altro che fiera, sembrate un gattino uscito pesto da una rissa felina. Per lei, meno male che il trillo della sveglia stamani vi riscuote dall'incubo nelle spire del quale vi sentivate avvinte, tanto da non riuscire più a districarvene. Solo un brutto sogno, ma qualcosa vi resta dentro come un avvertimento, alimentando inquietudine. Per lui, se a livello fisico non volete avere quell'aria imponente cominciate a valutare le dimensioni del vostro piatto e soprattutto del contenuto. Tutto da abbassare, calorie, colesterolo, grassi animali, zuccheri. Niente fai da te, il nutrizionista saprà ben consigliarvi. Colore delle emozioni, violetto. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 5, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.